Eccolo qua Monsignore Vincenzo Paglia, buongiorno per trovarlo, grande piacere. A tutti coloro che ci vedono, eccoci. Monsignore, già come l'ha detto, noi stamattina vogliamo aprire una finestra sul mondo degli anziani, lo faremo, ci raggiungeranno anche altri ospiti per avere una visione a 360 gradi. Abbiamo chiesto a lei di essere qui stamattina perché lei ha presentato la carta dei diritti degli anziani, le è stato chiesto dal Ministero della Salute di iniziare a fare questo lavoro per capire che cosa è successo in questo anno e mezzo di pandemia a coloro che già di fatto vivevano in una condizione molto spesso di solitudine, come è cambiato ciò che hanno vissuto in questi anni? Il Covid, il cui prezzo più amaro l'hanno pagato gli anziani, in realtà ha come scoperchiato una situazione. C'è quella di una società che per un verso ci fa vivere 10, 20, 30 anni in più, per altro verso non sa come farceli vivere, tanto che molti sono messi negli istituti oppure abbandonati. In questo senso la Commissione, istituita dal Ministro Speranza, ha presentato alcune settimane fa un programma di riorganizzazione dell'assistenza agli anziani in Italia ed era indispensabile farlo, non solo perché sono morte migliaia di anziani, ma perché tanti sono abbandonati a loro stessi. La polemica sulle RSA, che indubbiamente ha riempito le pagine dei giornali, è una polemica che riguarda, peraltro, una piccola parte di anziani. Con i dati dell'Istat che siamo andati a verificare abbiamo notato, per esempio, che la popolazione da 75 anni in su, compreso quindi anch'io, siamo circa 7 milioni. Di questi 7 milioni, 2 milioni e 700 mila sono con gravi difficoltà motorie e sono per lo più tutti a casa o abbandonati. Nelle RSA ce ne sono solo 280 mila, un decimo. Di qui una prospettiva ideale, moralmente sacrosanta, risponde anche ai dati della statistica, e cioè gli anziani, noi anziani, vogliamo rimanere a casa. Noi anziani vogliamo stare là dove da sempre stiamo. Ecco perché l'assistenza domiciliare diventa il cuore di questa nuova prospettiva. Ovviamente significa prendersi cura degli anziani partendo dal domicilio, però poi man mano che sorgono i bisogni si deve rispondere. Può esserci il co-housing, ci sono poi centri diurni da creare, c'è bisogno, secondo i nostri calcoli, di almeno 100 mila operatori sanitari in più per poter assistere. Poi anche alcuni istituti come la RSA, ma temporanei, per le cure necessarie, ma non per sempre. Vogliamo ampliare la nostra discussione, Monsignor Paglia, includendo anche qualcuno che il mondo degli anziani lo conosce dal punto di vista medico, nell'accompagnamento, nelle cure. Ci colleghiamo con il dottor Matteo Tosato, geriatra del Policlinico Gemelli. Dovremmo averlo in collegamento. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Il tema naturalmente è molto ampio. Fra i dati disponibili ce n'è anche uno che ci fa riflettere. Le RSA, che ha nominato poco fa Monsignor Paglia, molto spesso non riescono forse a rispondere a una domanda e c'è un dato che fa riflettere su questo. Una RSA su dieci si avvale stabilmente di un geriatra. Sì, è un dato che lascia senz'altro a bocca aperta. Ma il problema fondamentale, come diceva il Monsignore, è che l'RSA non è la risposta perché, come ha giustamente detto lui, l'anziano è una persona che vorrebbe stare a casa. L'RSA deve essere vista davvero come il punto transitorio o finale di un percorso che deve prevedere però un sostegno continuo e soprattutto finalizzato a prendersi cura di quelle persone che noi in ambito medico definiamo fragili, cioè quelle persone che hanno un rischio di andare incontro a sviluppare quello che è il vero problema dell'anziano, che è la disabilità. Se noi riusciamo a creare, abbiamo dei dati ormai solidissimi in tutte le realtà mondiali, se noi riusciamo a creare una rete di assistenza del paziente anziano prima che insorga la disabilità, riusciamo a ritardare molto l'insorgenza e intercettare il reale bisogno e la reale volontà del paziente. C'è uno studio anche che avete fatto al Gemelli che riguarda proprio gli anziani, siete andati a interrogarli proprio durante la fase di vaccino e che cosa ne è emerso? Sì, noi siamo partiti dal concetto, giustamente sempre come diceva il Monsignore, che la parte dei mandati Covid è solo una faccia della medaglia di quello che è successo in questo anno e mezzo in cui combattiamo la pandemia. Soprattutto questa classe di età più, diciamo, bisognosa e un po' più fragile, noi supponevamo potesse aver avuto un impatto molto significativo anche in termini di sostegno, perché chiaramente il lockdown ci ha richiesto alcune cose e una popolazione che aveva bisogno di un sostegno da parte della famiglia, da parte di volontariato, da parte anche della loro rete sociale, supponevamo potesse aver avuto un impatto maggiore. In effetti siamo andati a intervistare i pazienti ultraottantenni che sono feriti al nostro centro vaccinale, quindi le persone, nei primissimi mesi, quindi le persone che non avevano avuto la malattia e abbiamo potuto riscontrare come in termini di qualità di vita, in termini di ansia, di depressione, questo ha avuto un impatto molto significativo. Ma soprattutto, per tutta questa serie di motivi, hanno purtroppo mancato una serie di appuntamenti e di visite anche mediche e di conseguenza probabilmente la reale dimensione di questo problema lo vedremo adesso nei prossimi mesi. Prima di introdurre il prossimo ospite che forse in qualche modo ci aiuterà anche a capire come è possibile integrare questo tipo di assistenza, Monsignor Paia, le vorrei chiedere un commento a quello che ci ha detto il dottore. molti anziani non solo, già quelli che stavano bene, soprattutto quelli che stavano bene, hanno vissuto ancora peggio le conseguenze di questo Covid. Assolutamente, dobbiamo dire che gli anziani, assieme ai disabili ed anche ai bambini, sono stati i gruppi che hanno sofferto maggiormente, soprattutto per l'abbandono. Questo mostra quanto la nostra società davvero scarti i più debili e i più fragili. Quello che Papa Francesco continua a richiamare a tutti è che se noi vogliamo una società davvero umana dobbiamo ripartire da queste realtà che sono ai margini. È di qui che si ricostruisce la società del futuro. Ecco perché allora porre al centro dell'attenzione il grande mondo degli anziani significa in realtà guardare tutte le generazioni. Ecco perché il numero enorme di anziani, per dare un'altra cifra, gli ottantenni in Italia sono 4 milioni. Nel nostro progetto noi prevediamo che almeno una o due volte l'anno un gruppo visiti tutti questi nostri anziani e stabilisca per loro una sorta di guida di cartella di cura perché la prevenzione in un'età fragile come quell'anziana è cruciale. E a questo proposito, Monsignor Paia, diamo il benvenuto al nostro terzo ospite di questa mattina che è Franco Montingelli, responsabile dell'assistenza domiciliare integrata della cooperativa Auxilium. Franco, proprio nella scia di quello che diceva Monsignor Paia possiamo mettere quello che è il vostro lavoro, cioè un'assistenza domiciliare integrata, cioè a 360 gradi. Innanzitutto, buongiorno a tutti, è particolare, spaglia, perché quando la Chiesa si occupa dell'umanità sofferente è maestra e madre. Allora, parlando di assistenza domiciliare, è vero, l'assistenza domiciliare in questo momento rappresenta la via di uscita per dare uno sbocco naturale a quello che è il benessere domiciliare non solo del paziente anziano, ma soprattutto del paziente cronico. Ecco, partiamo da questo primo presupposto. Oggi come oggi, i sistemi sanitari, soprattutto in periodo di Covid, sono andati in crisi perché c'è stata un'enorme confusione tra cronicità e acuzie. Molto spesso gli ospedali sono stati riempiti di pazienti cronici e si sono trovati particolarmente impreparati in questo momento di pandemia. Noi dobbiamo ridare all'ospedale la sua vocazione naturale, che è quella dell'acuzie, e costruire dei modelli di assistenza domiciliare per i cronici esclusivamente a domicilio. Tutti i nuovi modelli e tutti i nuovi studi sottolineano che l'assistenza domiciliare, il domicilio è il luogo di elezione per la cura dei cronici e diventa tanto più importante nel momento in cui noi la consideriamo cosiddetta integrata, cioè un'equip multiprofessionale di professionisti che a domicilio si prendono cura non della malattia, ma del paziente e di tutto il suo contesto familiare e sociale. Questa è proprio una rivoluzione a 360 gradi, una sorta di rivoluzione copernicana, proprio perché noi non dobbiamo considerare soltanto la patologia, ma dobbiamo considerare il contesto dove la persona vive. Io spesso dico che dobbiamo partire dal cosiddetto ABC dell'assistenza domiciliare, dove A sta per appropriatezza. Oggi non possiamo dare tutto a tutti, ce l'ho insegnato il Covid, dobbiamo dare quello che è giusto a chi ne ha effettivamente bisogno. Poi dobbiamo garantire un certo benessere, che è quella sensazione intima, personale del paziente, ma anche della famiglia, ed infine creare una sorta di compliance familiare, cioè dare una sorta di comunicazione continua a tutti gli elementi che partecipano al percorso di curo. Rimanete allora tutti quanti con noi, perché fra poco vogliamo ritornare, anzi partire proprio da qui per capire la situazione del presente, le prospettive per il futuro e l'aiuto concreto che allora è possibile dare a queste persone che non sono scarti della società, ma sono parte integrante e vanno rimesse al centro. A fra poco di Buon Mattino. Tornati in diretta di Buon Mattino, stiamo affrontando l'argomento degli anziani in questo tempo di Covid. Lo stiamo facendo con Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e collegati con noi ci sono Matteo Tosato, geriatra del Policlinico Gemelli, e Franco Montigelli, responsabile dell'assistenza domiciliare integrata cooperativa Auxilium. Con loro abbiamo di fatto riassunto quella che è la situazione, un anno difficile, un anno in cui le conseguenze più gravi sono state vissute proprio dalle persone anziane, saltando controlli per visite mediche o ritrovandosi soli in situazioni, diciamo, già di solitudine. Vogliamo ripartire da qui, Monsignor Paglia. Lei ha presentato al presidente Draghi la carta dei diritti degli anziani. Cosa chiedete in questa carta alle istituzioni italiane? Noi chiediamo che il governo si prenda la responsabilità di riorganizzare l'assistenza a tutti gli anziani italiani. Una popolazione numerosissima. Quindi di istituire una cabina di regia con una legge quadro che preveda appunto la centralità degli anziani come, diciamo, con il diritto di restare a casa e il dovere della società di aiutare gli anziani e le loro famiglie a rimanere in maniera dignitosa laddove sempre vivono. Quindi c'è ora la responsabilità del governo di mettere in atto questo progetto che prevede un continuum assistenziale per cui l'anziano non resti mai solo e sia via via accompagnato a seconda delle emergenze o delle esigenze che arrivano. Tenendo presente che l'assistenza domiciliare fa risparmiare la spesa sanitaria di miliardi di euro perché gli anziani a casa costano molto meno di quelli negli istituti o negli ospedali. Nell'RSA. E allora, a proposito di assistenza agli anziani vogliamo andare a vedere un'esperienza e quella di una realtà molto importante quella di Sant'Egidio e ci andiamo con Simone Nestori. Io sono Giulia e con la comunità di Sant'Egidio mi occupo ormai da quattro anni di andare a trovare gli anziani soli che abitano nel quartiere di Trastevere. C'è una forte necessità di andare a trovare le persone anziane ma non solo per fargli cose concrete quali aiutarli a fare ad esempio la spesa fare il caffè ma proprio passarci del tempo insieme quindi scambiare due chiacchiere ascoltare i loro problemi le loro paure le loro ansie perché troppo spesso vivono in situazioni di isolamento e sono abbandonati praticamente a loro stessi. Gennaro sono io Ah ciao grazie Ciao 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 È come se avesse una sorella minore proprio in questo modo perché ho trovato in questa in questa tutto ho trovato perché io ero in una RSA e stavo proprio malissimo malissimo perché eravamo in quattro in una stanza allettati dicevo che dovevano aiutare un po' quelle altre persone che dovevano essere aiutate per mangiare perché invece ah no io lo buttavo addirittura e ho visto anche morire con questa epidemia che c'è stata quattro amici questa esperienza mi ha ridato proprio rapporti sociali solidi stabili e anche amici veramente dei nonni che non ho avuto la fortuna di conoscere e quindi insomma un grande arricchimento io adesso faccio tutto da solo cammino mi stanno curando vado a fare la spesa mi cucino cucino anche per gli altri anziani qualche volta per tutti quanti mi hanno dato tutto quello che non ho avuto da altre persone Sant'Egidio è stata la mia salvezza Sant'Egidio è il mio futuro Abbiamo un minuto in chiusura una battuta Tosato Montigelli per commentare quello che abbiamo visto Esattamente quello di cui stiamo parlando l'RSA non deve essere demonizzata ha un suo significato una sua utilità ma l'obiettivo per l'anziano deve essere quello di mantenere mantenerlo a casa in una dignità in un decoro che si merita e soprattutto aggiungo ma voglio stressarlo questo concetto questo tipo di assistenza non è un qualcosa che aumenta i costi ma appunto li fa risparmiare Montigelli 30 secondi Sì mi associo a quanto detto dal collega precedente l'RSA pur voglio dire generando alcuni elementi alcuni episodi negativi rappresentano un tessuto importante della nostra società sanitaria bisogna creare delle vere e proprie alleanze terapeutiche tra tutti i soggetti del territorio ivi comprese le RSA che diceva Monsignor Paglia rappresentano circa 300.000 posti letti si pensi che gli ospedali sono a 190.000 quindi dobbiamo creare davvero una sinergia autentica tra tutti quelli che fanno l'assistenza la vogliono fare e mi lasci dire la sanno fare grazie mille a tutti i nostri ospiti Monsignor Paglia Matteo Tosato Franco Montigelli è un argomento su cui ovviamente non mancheremo di tornare grazie per essere stati con noi stamattina grazie mille e per averci forse illuminato su un argomento un argomento che è sempre presente e vogliamo aggiungo che sia sempre presente Grazie mille grazie mille